un gran bell'anno il 1974 parlo di cinema naturalmente nelle sale escono quasi in contemporanea una serie di pellicole che potremmo annoverare tra le più importanti del secolo addirittura ve ne ricordo solo alcune se ricordo se riesco a ricordarle tutte il fantasma della libertà di bonoel la stancata di ravi hill chinatown di roman polaschi profumo di donna di dino risi c'eravamo tanto amati di ettore scola ma anche il fantasma del palcoscenico di brian de palma gruppo di famiglia all'interno di visconti prima pagina di billy wilde professione alle porte di antonioni portiere di notte di liana cavani il grande gasby di jack clayton e credetemi potrei andare avanti ancora per un po il film che però in quel magnifico 1974 spopolò letteralmente nelle sale il film di cui tutti conoscono le battute a memoria il film che a mio avviso meglio rappresenta la creatività assoluta di quel periodo è senza dubbio frankstein junior del regista americano mel brooks la sola cosa che riguarda me è la conservazione della vita adesso la lezione è terminata l'idea geniale è quella di parodiare le atmosfere dei classici film dedicati a frankstein della universa degli anni trenta una sorta di elegia della pellicola dell'orrore rivista in chiave comica e vagamente surreale fu così che si decise di girare in bianco e nero con una fotografia che potremmo definire arcaica e che riportava anche grazie ai movimenti della macchina da presa sapientemente dosati naturalmente nonché al susseguirsi dei quadri scenici ai film dei primi anni del secolo per una maggiore credibilità furono usati molti degli attrezzi di scena del primo frankstein e anche le inquadrature sono spesso una replica dei film originale in questo senso la ricerca fu un maniacale si voleva che lo spettatore non entrasse subito nel racconto comico ma anche in qualche modo restasse sospeso per qualche istante a pensare che la pellicola fosse l'ennesima ripetizione potremmo dire del frankstein del 1931 il film comincia in un'aula universitaria con una lezione di frederick frankstein noto professore di neurologia nonché nipote del famoso barone victor von frankstein creatore del mostro frederick è un docente diciamo serio inquadrato ripudia totalmente le teorie del nonno col quale non vuole avere niente a che fare motivo per il quale ha anche modificato la pronuncia del suo nome frankstein per evitare di essere confuso con lui il destino però percorre strade spesso incomprensibili così il buon frederick si trova a suo malgrado a dover affrontare un viaggio in transilvania dove è situato il castello del nonno per occuparsi delle eredità lasciate appena arrivato al primo incontro inquietante si tratta di igor nipote del vecchio assistente del barone che lo introduce nella magione igor interpretato da uno straordinario marty felman e gobbo ma la sua gobba non è sempre allo stesso posto una volta si trova a destra e una volta a sinistra ecco qui le prime scene surreali quando federic nel presentarsi dice di chiamarsi frankstein e non frankstein il servo per ripicca dice che il suo nome è igor ma si pronuncia igor una ripicca no no si pronuncia frankenstein allora dice anche frederick no frederick perché non è frederick frankenstein non lo è frederick frankenstein capisco tu devi essere igor no si pronuncia ai go ma mi hanno detto che era igor avevano torto non le pare scene di una comicità surreale e irresistibile nel castello frederick incontra anche inga una procace assistente e l'inquietante frau blucher un tempo amante e collaboratrice del barone la donna è talmente perfida che solo nominando il suo nome i cavalli del castello nitriscono di spavento io sono frau blucher l'atmosfera è quella del film horror come abbiamo detto il castello è freddo e arido come i vecchi castelli della transilvania porte che cigolano lupi che latrano borghiera naturalmente una grande libreria cupa e barocca camere che incutono terrore illuminazione elettrica appena sufficiente e ancora torce di fuoco fissate alle pareti insomma tutti gli ingredienti atti a rendere il luogo scoraggiante e macerbo influenzato dal posto frederick si sente incuriosito e cerca di ritrovare i vecchi appunti del nonno per verificarne i contenuti frau blucher arresti a mettere a parte naturalmente frederick dei segreti del barone così lo ostacola in ogni modo quando però si accorge che dietro alla curiosità del nipote c'è qualcosa di più e cioè il desiderio di vedere se sia possibile ricreare la creatura e scogita un piano per portarlo a scoprire la libreria la libreria segretaria non naturalmente mi dia quella candela grazie non metto la candela opposto con tutta la sua forza faccia leva in senso contrario sulla libreria frederick infine trova i vecchi manoscritti ne rimane affascinato e come preso da un raptus decide di ritentare l'esperimento del barone una notte con l'aiuto di igor a igor igor riesuma il cadavere di un detenuto appena giustiziato e poi si procura un cervello nel laboratorio neurologico della città il cervello da rubare sarebbe quello di hans del bruc un grande scienziato igor però pasticcia e prende un altro cervello che risulta essere tipo abinormal cioè anormale un pazzo insomma l'esperimento viene comunque portato a termine la creatura torna a vivere i suoi primi movimenti mostrano subito aggressività e disagio quindi la pseudo equip di scienziati decide di renderlo innocuo con una iniezione di sedativo figlio di puttana bastardo te la farò pagare perché mi hai fatto questo perché mi hai fatto questo lo lascio tuttora lo lascio così lo uccide non voglio più vivere ora non voglio più vivere calma dignità e classi man mano che passano i giorni però frederick capisce che il nuovo essere da lui creato non è cattivo e che la sua violenza nasce esclusivamente dalla mancanza di amore fin qui la storia che come tutti sanno si disparerà in una serie di situazioni apparentemente drammatiche ma in realtà super esilaranti che poi troveranno il loro lieto fine intervistato in occasione del quarantesimo anniversario dell'uscita del film mel brooks definì frankstein junior di gran lunga il suo miglior lavoro sebbene non il più divertente ma voi sapete come sono i registi non sono mai soddisfatti in qualità di sceneggiatore e di regista questo è il suo punto di vista c'è però da dire che il film anche se la regia è senz'altro di brooks in realtà va considerato una splendida collaborazione tra lui e l'attore gene wilder che neanche il protagonista e che sempre insieme a mel brooks ha scritto la sceneggiatura anzi per essere precisi la paternità del soggetto e da attribuirsi forse esclusivamente al solo gene wilder che scrive la sceneggiatura di frankstein junior appunto durante un breve periodo di vacanza nella sua casa di west hampton west hampton beach non lontano da new york e che poi la propone a brux inizialmente il regista non prese in considerazione l'idea di wilder poi nel 74 tornò sui sui suoi passi diciamo e decide di presentare il progetto alla colombia pitch quando però comunicò loro che voleva girare il film interamente in bianco e nero si trovò si trovò di fronte una tale opposizione che si vide costretto a passare la sceneggiatura alla 20 century fox che lo accolse con entusiasmo pensate che fortuna no da una azienda all'altra la 20 century fox ebbe poi la fortuna di produrre un film di grande successo come dicevo nel film ci sono molte batture che sono ormai patrimonio della storia del cinema quando ad esempio igor e frederick stanno nel cimitero risumando il cadavere e frederick si lamenta che non potrebbe andare peggio igor gli risponde beh potrebbe piovere e subito come un segnale un violento scroscio di pioggia in veste i due poveri potrebbe essere peggio eccomi potrebbe piovere quando mel brooks spiega che i cavalli nitriscono terrorizzati al solo sentir nominare frau blocker è perché ella è personaggio talmente crudele e dice sono terrorizzati da lei dio solo sa che cosa fa questa donna quando non c'è nessuno in giro buonanotte frau blocker la gobba semovente sulla schiena di igor è una gag sviluppatasi in corso d'opera marty philman spostò di nascosto la gobba per diversi giorni sul set e quando finalmente i membri del caso se ne accorsero la gobba mobile divenne storia questo fa seguito alla dichiarazione di mel brooks che affermò che durante le riprese le maestranze erano costretti a mettersi un fazzoletto in bocca per frenare le risa incontenibili che le scene scatenavano un po come i film di totò e peppino che erano totalmente improvvisati e che le grisate erano sempre straordinariamente spontanee nel film sono presenti diversi omaggi uno è senz'altro quello che si riferisce alla sequenza iniziale della pellicola dove si vede il castello e la cinepresa che si avvicina lentamente con una luce accesa tributo all'inizio di quarto potere film di orson welles del 1941 altro omaggio potrebbe essere quello a stanley kubrick del dottor stranamore dove il protagonista ha una protesi alla mano ovviamente che non risponde ai suoi comandi stessa cosa che avviene alla mano del capo della gendarmeria del paese della transilvania dove si svolgono i fatti la scena del lupo che ulula mentre igor e frederick si trovano nel carretto diretti al castello sono probabilmente un omaggio al film per favore non mordemi sul collo di rovan polaschi a proposito di questa scena va segnalato un geniale adattamento di mario maldest direttore del doppiaggio del dialogo fra frederick e igor adesso ve lo leggo perché non lo posso sapere a memoria allora inga dice lupo ulula dottor frankstein risponde lupo ulula igor la dottor frankstein cosa igor lupo ulula la e castello ululli ma come diavolo parli dice frederick igor e lei che ha cominciato non è vero dice frederick igor non insisto è lei il padrone questa è una delle scene più divertenti come vi ho detto è stata adattata dal nostro doppiaggio perché in inglese è molto diversa lupo ulula la cosa lupo ulula e castello ululli ma come diavolo parli è lei che ha cominciato no non è vero non esistono è lei il padrone ecco lula insomma in questo film tutto è perfetto regia attori atmosfere un esempio di come la comicità possa diventare anche poesia siamo di fronte a un capolavoro assoluto tanto che le battute le gage sono ancora presenti nel linguaggio comune come se frankstein frankstein yuno naturalmente fosse uscito solo poche mesi fa un film da vedere e rivedere e dunque e dunque che dirvi buona visione a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.